Buongiorno a tutti i spogliatori, oggi abbiamo 14 spogliatori, 19 posti di tutti i suoi e ci vogliamo studiare anche con più di un film, anche di 77, abbiamo due spogliatori per gli altri, sono 16 anni, abbiamo tutti quei locali che non servono, 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutte queste meravigliose persone che hanno permesso questa realizzazione. E ora un saluto al nostro sindaco dei ragazzi, anche il forte del SfG. Buongiorno a tutti. Signor Giorgatti, oggi non sono principalmente investe come sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma investe di giocatore di calcio dell'FC di Polione. Parlo a nome di tutti i ragazzi calciatori e sportivi per ringraziare l'amministrazione comunale, la società FC di Polione e tutti coloro che hanno investito soldi e tempo per questo meraviglioso campo dove possiamo divertirci ed essere fieri di farne parte. È quasi irriconoscibile rispetto a prima. Ora abbiamo dei bellissimi scogliatori e delle tribune, cooperate per i nostri spettatori. Le aree sono molto curate e adatte a tutti noi, dai più piccoli ai più grandi. Non vediamo l'ora di allenarci e giocare bellissime partite, stare insieme ai compagni e ai nostri mitici allenatori che fanno tantissimo per noi. avremo cura di tutto quanto ci state donando e sarà per tanti ragazzi un bellissimo punto di ritrovo. Grazie. Bravo! Grazie. 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 Grazie.